Il progetto RTK Il progetto RTK con fericoltura Umbria ha lo scopo di modernizzare le aziende con tecnologie satellitari nell'ambito del precision farming. Il progetto RTK è già operativo sul territorio, stiamo dando assistenza alle aziende per quanto riguarda la distribuzione di concimi a rate variabile, di serbo, lavorazioni del terreno, cosicché da poter vedere ad esempio i consumi del veicolo, il consumo medio totale del veicolo, anche in un range storico di un mese, due mesi a seconda della scelta dell'azienda. Le nostre aspettative sono che ci saranno sempre più aziende che parteciperanno a questo progetto per contribuire alla sostenibilità ambientale.